musica 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 che cazzo che cazzo è stata ma la cattolata bandiera anduva a massa morto il secondo mezzo quanto tempo è passato ma come si chiamava la più grande del fatto il deserto di bandana deserto di bandana non non si mettono la carica o quella che dovrebbe essere quella che è e poi non è quella che c'era nel primo trailer c'è un'iglia di armi e andando avanti ma non c'è un po' ma ma stronzo non 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 ma che merda non 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 oggettiva usci la reone ma sta volando già già visto e già già mi sono accodato mamma mia io devo andare a farmi loro che c'è un tizio no 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 cazzo sto andando ah forse se vado su delta no 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 qui si becca ma farla godere perché poi scappa non vabbè non 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 io devi venire giù quell'elicottero vedere che devi venire giù non è che ti nascondi a dalla colline per scappare no veni giù ahahah ahahah oddio vai a canto il cazzo d'elicottero per o salvanito sto cazzo allora lord 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 dov'è ahahah beh io vado ragazzi ciao come vediamo se forse sì che dovrei sparare lontano ah perché l'azufo non 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 ucciso dall'admin perchè che fiume di una gran puttana ma ed è morto appena appuntato un altro un attimo non ti salvi perchè non hai capito ok merda con lo zeta 11 litro l'offrago porco dico guarda non bemmi il cazzo con quelli di poterino della minchia sparo anch'io gli sparo guarda c'è anche cpt nicola chi cazzo è? nooo ma lo buttava fuori perchè non spai? ti hanno buttato fuori? ahahah ma che cazzo non buttava scritto a faccia italiano? ahahah ah ma sono italiani i spinazzi lol ah si? lol non serve l'italiano? siiii ahahah e che cazzo li hai combinato scusi? è lo stracati di continuo ma ha scritto falso italiano falso italiano falso italiano falso italiano ora rientri ma quale falso italiano coglione oh oh che pirla ma quanto sei pirla il tuo amico italiano ha provato a ammazzarmi a terra e si è schiantato che pirla ma quanto sei pirla pirla ma quanto sei pirla pirla oh si ma che ti picchi siiii ah perchè facevi finta di essere italiano ma parla in italiano ahahahahah ahahahahah allora è scherzo ahahahahah ma impara due lingue ma piacciono oddio allora si scrive impara italiano cazzo ragazzo ahahah ahahah carca puttana ma che clan è oh ma chiede di parlare in italiano ahahahahah ahahah ma dia cos'è sta cosa tutto il caldo non ci credo e dove fa sto camminando due ore pacca puttana nico palermo mamma mia siciliano belle carino tutto quadra sto stronzo pacca sto nessuno demone sarah la e la città la città o c'è la maniera vai vai sta già scoppiando l'hort eh si 22% ma non posso sparare ma va a cagare porca puttana ogni volta che distruggo l'elicottero con l'rpg muoio perché l'admin mi ammazza quindi prima ho fatto bene a non riuscire a colpirlo quattro volte mannaggia me raffanculo almeno ah ma sei te sul ma lo stai guidando o sei solo cannonier ah vado avanti da solo posso sparare si ho visto che ci sono tipo due postazioni quanti e ogni postazione ha due armi una cosa così questa parte sarà l'apertura oh cazzo stiamo perdendo conca stavamo ora li battiamo tutto ah no sei bombato guarda se gli fa la sorpresa eh tu stai in aria tu stai in aria e copri vai vai lei è ammazzata almeno siiiiihihi nooo ma che ho fatto nooo oddio maiale ti ha chiccato di nuovo nooo e qua oddio mi pare la tralla parca puttana io non so non so se è dovuta aprire che cazzo cosa devo andare a piccare M M ti apre la mappa si te l'allarme ma l'hai vista la cazzo è grossa si si aiutami eh sono a terra ok provo questo c'è aerei si che sti qua fanno le chiamme vado fuoristrada ti tocchi un attimo allo sterzo oh caldo oh 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 però ci vogliamo altre c- ma che cazzo ah ma quello è nostro vai ma che Bello sto pronto no 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 chico spari foxtrot e golpe rispetto arrivando con car ma che cazzo spari barca puttana quanta gente ceni Continua a distruggere veicoli che non c'entrano a nulla Cerco di prendere la bandiera Stiamo provando le nuove mappe di Battlefield Uh, elicotterone Che sono uscite tipo ora L'ho preso, l'ho preso Giù 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 Devi stare giù No, no Wey Pazzo container Vai 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 Merda Non quello, quello, non quello Non quello Morto Ok Riprendiamoci Tipo Golf Delta Stiamo vedendo bravo Ok Si Tornando Zornando Dornando Mi Muccare Delicare Ok ma ecco la merda o 35 18 non è morire ora non mi lasciare adesso non hai permesso di morire cazzo noi stiamo prendendo un'altra tranquilla oh il 4 ok non ha funzionato ahahah oddio si come ti tiro giù l'elicotterino a cannonate ma ahahahah ma suca vai brutta merda come li abbiamo disintegrati ste merda mamma mia guarda che cazzo li abbiamo fatto stavano vincendo cioè io ma vincendo stavano stra vincendo l'ololo 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 cacciatore di carri guarda la vista anche te la sbloccata boh si un sacco via a parte c'è anche così vedi e poi ci sono anche gli achievement della dell'armor aid kill c'è una roba da fare mamma presi a calci veramente vado a mangiare lord ho presi a calci veramente che l'ol ahahahah a tra poco ciao 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 ciao